Allora, anno nuovo, nuove recensioni inca. Quest'anno passo a due video caricati per settimana, perché si è accumulato un backlog, non avevi idea, e quindi tanto vale smaltirle. Farò una il martedì e una il giovedì. Prima recensione. Su un video scopro il 50% dei canadesi. Cosa fanno? No, il 50% dei canadesi, con tutto il territorio che c'è, sconfinato, purtroppo inabitabile, perché è molto freddo, più vai nel nord e più c'è la roba quasi polare, il 50% dei canadesi si trova sotto il cinquantesimo parallelo, cioè qua, in questo triangolino, dove c'è Montreal, Toronto, le cascate del Niagara e tutto quanto. Il 50% è tutto lì, per quel motivo lì, della inabitabilità del resto del paese. Tant'è vero che lì dentro, per esempio, attorno a Toronto, un'autostrada che fa come da tangenziale, che le gira intorno, è l'autostrada più trafficata al mondo. Noi ci siamo passati nel 2009, se riesco vi metto il link del video, ci siamo trovati in questo fiume di asfalto con 14 corsie, 7 corsie per senso di marcia, con tutte queste macchie, tutte che vanno relativamente piano, perché ci sono i limiti di velocità, giustamente, è impressionante. E c'era un video che diceva che questa era l'autostrada più trafficata del mondo, e non c'è modo di alleviarla, perché il tipo di territorio è quello, il traffico è enorme, gli abitanti sono tanti, e fanno tutta questa strada. Vabbè, dopodiché passiamo alla TAC senza veli. Mi è arrivato ad un video curiosissimo, in cui sono andato a vedere, perché io di TAC ne ho fatte recentemente almeno tre, se ben mi ricordo, almeno tre, con liquido di contrasto e tutto. Come funziona una TAC? C'è questa specie di ciambella, dove ti fanno entrare su una lettiga motorizzata, e tu entri qua dentro, questa è la persona, zà 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 zà, devi stare fermo come se ti facessero una fotografia, e tutto attorno è coperto dall'involucro di enorme mogoli di plastica. Succede quello che succede in una panoramica dal dentista. La panoramica del dentista ti mettono la testa ferma, poi ti gira intorno una coppia di emettitore di raggi X e ricevitore, ma ti gira intorno e quindi ti scandisce a 360 gradi da tutte le direzioni, forse no, 180 solo, perché i denti gli basta 180, 180, sì, 180 gradi e bom. La TAC fa lo stesso, diciamo così, lo stesso fino a un certo punto, nel senso che c'è un emettitore di raggi X e un ricevitore dall'altra parte e questi girano, no? E fin qui va bene. Infatti io quando sono stato dentro a Steffarnese qua capivo che c'era questa roba che girava forte, sembrava che girasse forte, un rumore. Il problema è che questa scansione, se la vuoi fare precisa, tipo avere un'immagine ogni millimetro, addirittura, mentre il paziente scorre, per evitare un radiamento eccessivo, perché l'irradiamento, la dose assorbita è proporzionale al tempo in cui si è esposto, tra l'altro ecco, piccola parentesi, sono andato a vedere su Wiki, un ATAC ti costa con l'assorbimento di radiazione tutto quello che prenderesti in un anno dalla radiazione naturale, quindi l'ATAC ti fa un anno di radiazione naturale, se ne fai troppe è come se fossi vissuto di più sotto i raggi cosmici. Comunque, per evitare di metterci tanto, fa gire, fa un millimetro, in realtà vai abbastanza veloce, vai a diversi centimetri al secondo, cosa fa per fare comunque un millimetro? gira in maniera forse nata, ma la velocità, ecco, l'ATAC senza velo era perché il video faceva vedere, senza la persona, perché era un test, faceva vedere il meccanismo senza coperchio, quindi c'è il meccanismo, gli togli il coperchio, vedi tutte queste cose qua, sono più di una, che girano forse natamente, ma alla fine, cioè al fine, quando ha preso velocità, questo girare forse natamente, è peggio che una centrifuga dalla lavatrice, una cosa impressionante, di muuuuuh, ma una donna, è per quello che lo nascondono, perché se quello lì dentro vedesse tutta sta roba, si spaventerebbe, un quanto sentirei rumori, a un altro conto, vede sta roba che gira in maniera pazzesca, tra l'altro, si spera che hanno calcolato bene le dimensioni di tutta l'attrezzatura metallica che tiene sta roba, perché se dovesse staccarsi qualcosa, per forza centrifuga, ma fa un diavolo di danni, non al paziente che è dentro, ma all'esterno, comunque, la curva dell'anatroccolo, che cos'è la curva dell'anatroccolo? non sapere, o esiste un termine tecnico con cui si identifica dark curve, la curva che dà l'assorbimento di energia elettrica di una città, di un quartiere, eccetera, nelle ore della giornata, cosa che abbiamo già visto anche in altri video, c'è quel problema per cui cosa succede? che il il consumo giornaliero fa qualcosa del genere, la notte scende, poi sale, mettiamo mezzanotte qua, le ore 24, le ore 24 qua, e la notte scende, poi attacca la mattina, poi c'è una specie di rimbalzo, diminuzione nel pomeriggio, perché tanti uffici chiudono, eccetera, e poi la sera attacca, in parte bisogna attaccare la luce, ma poi c'è anche uno fa la lavatrice, usa a casa, non più in ufficio, energia, per esempio con condizionatori, e risale. Ora, questa curva, questa che è chiamata la curva, del, come si chiama, del, del, del anatroccolo, ci hanno visto, ci hanno visto, un anatroccolo, che fa guac guac, e poi il video, a parte la curiosità, appunto la recensione l'ho fatta per la curiosità di questo duck curve, che non sapevo che esistesse, ma il video ovviamente parlava di questo problema qua, che c'è un consumo molto disuniforme durante la giornata, per cui con le rinnovabili, ammesso di avere sempre vento, sempre il sole, eccetera, questi alti e bassi, bisogna per forza gestirli, con immagazzinamento di energia elettrica, fatto con batterie, estensioni, quanto una fabbrica, in certi posti danfate, o con recupero, accumulo e recupero di energia gravitazionale, potenziale gravitazionale, di bacini idroelettrici, cioè un bacino idroelettrico che non serve più tanto per produrre energia elettrica, ma può servire per spostare l'acqua con delle pompe su, in cima, in un bacino sovrastante, quando c'è un surplus di energia, perché l'energia prodotta da una, ma anche da una centrale nucleare, per esempio, che lavora in maniera costante, l'energia prodotta è costante. Quando ne avanza, tipo qua nella notte, quando ne avanza, tu la impieghi per tirare su dell'acqua in un bacino, e quando viene invece richiesta in più della tua capacità produttiva, la riprendi facendo scendere l'acqua con le condotte forzate, al contrario, lo stesso meccanismo l'ha fatto al contrario, e ti riprendi le energie. Dopodiché, la storia di Ripuglia, buffissima, questo che mi è capitato per caso, c'è un avvocato, si chiama Catani, di cognome, un avvocato buffissimo, perché adesso vi metto il video, sembra un extraterrestre, ha un viso un viso così, come dire, proprio extraterrestre, tra l'altro, senza nessun gusto, c'è la gente che si filma, tipo io, mi filma a una certa distanza, se ti metti vicino, perché usi il cellulare, usi, il viso rimane deformato, il naso, spariscono dietro le orecchie, e ti fa l'effetto ET, questo lo fai in maniera, esorbitante, poi invece di essere rasato come me, c'è i capelli rimasti al pampurio, insomma buffissimo, buffissimo e simpatico, un avvocato che racconta le stupidaggini che succedono in Italia, nel mondo, ma soprattutto in Italia, e che ha fatto vedere un video allucinante, che ho deciso, questo lo devo raccontare, un video in cui, Ripudia è una video blogger, come si può dire, una influencer, molto giovane, che posta video ogni momento, delle cose più stampalate, e in questo video lo fa vedere, fa una montatura assolutamente assurda, che si è inventato praticamente, per dire alla gente, guardate come si accattiva la polizia, che ci picchia sempre, questi fascisti, eccetera, eccetera, è tutto raccontato, senza immagini, lo racconta così, non so se lei era presente, dice che lei era presente, o l'ha sentito raccontare, insomma, l'episodio è questo, vediamo cosa racconta, racconta che a un certo punto, usciti alle ore piccole, da un locale, o da un Burger King, o un McDonald's, ragazzi, tra cui uno di colore, insomma, fanno un po' di casino, e questo ragazzo di colore, trova una bicicletta, lì ferma, e suona il campanello, trin, 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 dice che sono arrivati i poliziotti, non, 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 i poliziotti, a dirgli di smettere, di suonare il campanello, che se no qui, che se no là, e dopo un po' sono arrivati, c'erano volanti d'apertura, tutto, insomma, per un campanello, e lì il discorso, questi, pur di attaccarsi a un povero negretto, a un poveraccio, che suona un campanello, fanno un casino, non c'ideale, minacciano, di portare dentro la gente, e questo video, ha avuto due milioni di visualizzazioni, cioè, sti giovani che seguono sta persona, avranno preso come oro colato quello che raccontava la persona, e ci saranno, avranno rinforzato, nella loro idea, della polizia cattiva, e che reprime, e che non ti lascia suonare neanche il campanello, soprattutto se sei negro, niente, lui invece spiega, che la cronaca riportava, chiaramente, sui giornali anche, che era successo questo, che fuori da questo McDonald's, alle ore piccole, c'era stata una rissa, cioè, ci avevano fatto casino, allora la gente, svegliata, nei palazzi vicini, ha chiamato la polizia, e quelli sì, sono arrivati poi con i rinforzi, ma perché c'erano decine di persone che facevano il casino, che si menavano fra di loro, cioè una roba un po' diversa dal poveretto che, Fredrin Gringo Campanello, arriva il poliziotto, anzi due, anzi tutto il commissariato, a dirgli di smettere, no, è completamente diverso, io ho scritto un commento, che però l'ho buccato, e mi sarebbero neanche visto, dicendo, ma in questo caso qua, lo Stato non potrebbe fare causa a questa persona, perché ha diffamato lo Stato, ha diffamato la polizia, su cose non vere, non lo so, uno può dire qualsiasi cosa così, senza che ti dicano, beh, stranissimo, e devo dire che questo l'ho visto riportato in questo video, in questo avvocato, simpatico, ma non l'ho mai visto sui giornali, Tacobano, quindi ci saranno, no, due milioni di visualizzazioni, vuol dire che ci sono centinaia di migliaia di ragazzi estroditi che avevano creduto a questa cosa qua, si sono fatti proprio l'idea che è vero, la polizia è un cattivo, non ti lasciano suonare i campanelli, e niente sui giornali, né sulla televisione, mi sembra che sia stato diciamo tirato fuori a titolo di smentita, dice guarda che stavo qua, non esiste mica, ok, batterie ferroaria, curioso, da un video ho scoperto che io non è che sono fermato in chimica, quindi non ho seguito molto bene i ragionamenti, comunque pare che riescano a trovare, a, diciamo, prendere energia, dal meccanismo dell'arrugginimento, perché l'arrugginimento che cos'è? Il ferro si combina con l'ossigeno e fa l'arruggino, l'ossido di ferro. Costruendo delle apposite celle ferroaria, ferroaria, non so come, chi magari non sa più di me riesce a capire dal video, si riesce a realizzare delle vere e proprie batterie, cioè che fanno il meccanismo dell'arrugginimento al contrario. A questo punto, invece che catturando ossigeno, producendo ossigeno, c'hanno ancora il problema, dice che sono attrezzi con la superficie ferro, vabbè anche il piombo, le batterie pesavano tanto, comunque pesano troppo queste cose, perché probabilmente ce ne vuole anche tanto, sono ancora grandi e pesanti, però pare che abbiano un costo 13 volte inferiore a quelle a ioni di litio che ti costano 80 dollari al kilowattore prodotto, mentre queste qua fanno 6 dollari, perché ovviamente il litio è raro, costosissimo, il ferro ce n'è abbastanza, anche se adesso non ce n'è più tantissimo. Ultima storia, poi chiudo, le catapulte elettromagnetiche, mi era sfuggito, il video prendeva in giro anche Trump che faceva, approfittava di questa cosa qua per farsi bello con 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 il personale della marina sulle portaerei, perché praticamente cosa succede? Le catapulte attualmente, cioè fino adesso erano fatte con dell'aria compressa, che spingevano stantuffo e tirava l'aeroplano per farlo decollare. Adesso queste cose qua sono fatte in maniera elettromagnetica, come i cannoni elettromagnetici e le vogliono man mano sostituire perché sono più efficaci, per esempio a parte i costi, eccetera, sono più controllabili nel loro movimento, cioè il pistone a vapore non è tanto, cioè fa il suo tragitto magari in maniera non ideale, mentre invece l'elettromagnetico puoi tu controllare le velocità ad ogni istante che ha diminuendo magari le accelerazioni che subisce il pilota. E bon, e Trump faceva in questa, come si dice, in questa apparizione su una delle portaeree e prendendo la difesa delle carpolte tradizionali, naturalmente il cicito tradizionale per questa roba elettromagnetica è vista come una novità e non piace, però stanno cercando di diciamo di sostituirle man mano in tutti i mezzi della della flotta e con questo passiamo al video successivo. Vai! di